La pensilina della stazione ferroviaria di Teronto la rientra in una speciale categoria di siti di interesse che devono essere tutelati secondo il Ministero per i beni e le attività culturali. È arrivata una comunicazione in tal senso dal Ministero al Comune di Cortona. È una grande soddisfazione, commenta il Sindaco Basanieri, conferma quanto diciamo da tempo sulla stazione di Teronto la quale snodo strategico per i viaggiatori fin dal XIX secolo. Il fatto che la stazione di Teronto la già nel 1800 sia stata addobbata con opere di così alto pregio ne evidenzia la sua importanza. Spero, conclude il Sindaco, che questa piccola novità sia di buono spiccio per il futuro della stazione e ci sia di aiuto nella nostra battaglia per difendere i servizi della stessa stazione. La pensilina, ha comunicato il Ministero, è una tipica struttura in ferro e ghisa con capitelli floreali e colonne a sezione circolare. Fu realizzata nel 1875. La permanenza delle pensiline a ornato floreale nella stazione di Teronto la costituisce un unicum da tutelare per il pregio della tipologia del manufatto e per il suo valore di documento della moda del viaggio in ferrovia nel XIX secolo. In questa struttura, secondo il Ministero, vi sono pregevoli capitelli floreali ed elementi caratteristici dell'architettura ferroviaria Liberti.